buon dia a tutti allora doveva essere uno short ma alla fine mi sono resa conto che è meglio fare un video per spiegarvi bene la novità che vi sto per annunciare partiamo subito vi dico che sul mio sito ho fatto una nuova sezione che si chiama una nuova categoria che si chiama kit creazione in che cosa consiste come molti di voi sanno io sul gruppo di facebook la libertà di incentare e sferuzzare faccio delle dirette una volta la settimana ma anche più raramente perché sapete il mio tempo è sempre molto poco nel quale spiego delle creazioni semplici e veloci da fare come in questo caso io sto indossando il poncho my love che abbiamo fatto l'anno scorso proprio durante una diretta di facebook ora siccome molti di voi mi hanno detto che non hanno facebook ma che hanno visto delle foto con indosso delle creazioni e che ho fatto proprio in quelle dirette e le vorrebbero fare vi dico già che mi è veramente impossibile andare a rifare dei video e pubblicarli sul canale delle creazioni per questo ho deciso di fare una cosa alternativa ossia fare dei kit che comprendono il pdf della creazione più il quantitativo di filato che io ho usato per fare la creazione in questo caso io ho usato il memphis e quindi di fare dei kit creazioni che vanno in base quindi al pdf e al quantitativo di lana che di filato in questo caso è cotone di filato che vi occorre appunto per creare quella creazione nella vostra taglia quindi taglia s taglia m taglia l taglia xl quindi quando voi acquistate il kit nella vostra nel pacco che vi arriva a casa troverete sia il filato che il pdf appunto per creare la creazione al momento da oggi visto che partirà oggi questa iniziativa trovate questo poncio che il poncio my love e cercherò man mano con un po di tempo di inserirvi gli altri che le altre creazioni che abbiamo fatto durante penso già un anno e mezzo di dirette che faccio naturalmente partirò dalle creazioni estive quindi recupererò le creazioni fatte estive fatte negli anni nell'anno scorso e vi posterò i pdf insieme al filato che vi occorre per poterlo realizzare mi raccomando la vendita non è del singolo pdf ma pdf più filato per realizzarla per questo ho deciso di chiamarla kit creazione quindi spero di essere testata su chiara su questo non è vendibile solo pdf ma bisogna acquistare il filato con il pdf questi kit creazioni valgono soliti esclusivamente per quelle creazioni fatte durante le dirette di facebook e naturalmente penso che andranno a prendere le persone che non mi seguono su facebook oppure sì mi seguite su facebook ma per voi è più facile invece che andranno a riprendere la diretta acquistare il pdf con il filato detto ciò come vi ho detto partirò iniziando con le creazioni estive che abbiamo fatto l'anno scorso e se farò delle creazioni quest'anno cercherò di mettere anche questo quindi datemi comunque del tempo per poter far tutto perché devo recuperare le dirette le devo comunque andare ascoltare per ricordarmi quanto filato usato quanto bisogna fare per le versi taglie qui le varie passaggi per farlo quindi la catenella iniziale tutto quello che serve appunto per fare la creazione spero che questa iniziativa vi piaccia e possa in qualche modo aiutare coloro che non vogliono farsi appunto il l'account su facebook ma comunque creare le anche loro queste creazioni che noi facciamo in diretta insieme io adesso vi saluto vi lascio il link al sito dove già trovate disponibile appunto il kit per poter realizzare e mi raccomando nei kit potete scegliere anche i colori disponibili del filato quindi non per forza un singolo colore ma ci sono diversi colori a disposizione quindi voi potete decidere i colori a disposizione in base alla vostra taglia e niente ci aggiorniamo presto un bacio a tutti e buon weekend a tutti e buon weekend